Oggi sono seduto su questo trono, o per meglio dire che sono in piedi Perché oggi andremo a fare una cosa molto particolare e diversa dal mio solito E non so se piacerà, io mi auguro di sì, lo vedo se vi piace ovviamente Ehm, cosa andremo a fare? Andremo, chiaramente, in questo timer di 8 minuti Andremo a scavare dei diamanti e a vedere quanti diamanti riesco a prendere io in 8 minuti Appunto, per vedere un po' Ovviamente qua possono partire chiaramente i pronostici Secondo voi quanti diamanti riesco a prendere, quanti non ne riesco a prendere, cosa prenderò? Cioè, insomma, credetemi un po' voi, possono essere 0, possono essere 3, possono essere 20 diamanti, possono essere 50 Io, tenete conto che non ho fortuna sui diamanti, sul piccone di diamante, dico Quindi sarà per me un po' più complicato Però, comunque, mi auguro che riuscirò a fare un risultato decente Anche considerando il fatto che comunque ho allo stesso modo un piccone di diamante Che comunque scava abbastanza veloce, quindi se vado in una certa direzione Riesco a prenderne anche abbastanza di porca miseria di diamanti E bisogna anche magari stare, ricordarsi di stare attenti Alla lava che ogni tanto spunta un po' in giro E io, che tanto odio questa lava Dico ogni volta, nooo, ogni volta che cado nella lava Nooo, non può essere, perché è successo? E diventa un dramma, però Amici miei, potremmo iniziare Quindi adesso prendo il mio timer qua sul telefono Lo metto qua così E facciamolo partire dove... 8 minuti Perfetto, partito Beh, via, 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 via Ok, perfetto Nei primi 3 minuti io spero di trovare almeno, almeno 4 diamanti Mi auguro, questo è un po' il mio obiettivo da raggiungere Che se non lo raggiungo, piango E svengo Quindi per favore, state insieme a me Prego, aiutatemi a trovare questi diamanti Trasmettetemi tutta l'energia positiva che avete Io so che insieme al popolo So che voi riuscirete a trasmettermi tutta l'energia positiva Per trovare i diamanti Perché l'universo vibra E noi, non so che questo dice Sapete quelle cavolate che si dicono un po' in giro Cioè nel senso, non lo so, a voi ci credete a queste cose Perché io no Tipo alle robe che l'universo vibra e quindi un po' tutto quanto vibra Non lo so, vabbè, è un po' particolare Comunque non ha nessun fondamento scientifico per dire questa cosa Quindi non so se avete mai sentito parlare di questo vibramento dell'universo E non vorrei dire in che cosa vibra e che cos'è che vibra e cos'è che Vabbè, insomma, lasciamo perdere Però praticamente vibra Vabbè, insomma, a parte gli scherzetti Vediamo un attimo Io adesso non ho zero diamanti, che schifo Cioè io spero di muovermi Guarda, io faccio così Metto un po' di acquetta Che poi chiaramente mi possa condurre Con la giusta forza di volontà Dai, quanto odio la lavavi giuro La odio con tutto il mio cuore Voglio che esploda in 30.000 pezzi Guardate che complicatissima questa cosa, seriamente Cioè, non mi serve il ferro Voglio i diamanti Voglio i diamanti Datemi i diamanti Dammi i diamanti Dove sono questi diamanti? Sono qua per caso Magari saranno qua Guardate che non si vede assolutamente niente Dai, per favore I diamanti? No, io vedo che qua In questa caverna A parte il creeper Ci sono un po' di minerali E io so che al posto dei minerali Che ci dovrebbero essere Ci potrebbero essere anche Tipo di diamanti Ci sarebbero potuti essere dei diamanti Invece c'è la redstone Per dire Tipo qua al posto della redstone Ci sarebbero potuti essere dei diamanti Invece la redstone Ha preso il posto dei diamanti E ora non c'è più chiaramente Però è una cosa veramente Che mi infrange il cuore E che mi fa piangere In tante lingue diverse Perché se io piango Parlando però Praticamente Tipo adesso sto piangendo Però voi non lo sapete Perché sto parlando in realtà Quindi non sto piangendo Intanto io vedo qua Che siamo a 5 minuti e 46 No buono No buono No affatto buono Questa cosa mi sta facendo Molto triggerare ragazzi Vi sto dicendo la verità Mi sta facendo triggerare Anche perché non so proprio Come fare a trovare questi diamanti Allora dov'era il tunnel Che io avevo preso? Aiutatemi Sto andando in iperventilazione Vi chiedo scusa Cioè non so che sembrava Una cosa un po' Terribilmente brutta Me ne rendo conto E vi chiedo Terribilmente scusa Perché non si dovrebbe fare Questo verso Soprattutto Un verso particolare Che non si è mai sentito In nessuna tribù Però in questa mia tribù Che io parlo Si è sentita Io sono a livello 12 Intanto adesso Quindi buono Andiamo avanti Da questa parte Cerchiamo di trovare Sti casti diamanti Che tanto adoriamo Ragazzi vediamo A voi piace Questa tipologia di video Perché A me il mining Su minecraft piace Ma io so che Dalle Un po' in giro sul canale Ho visto che comunque Quando scavo in generale Non vi piace molto Quindi ho deciso Ma magari Alla gente Potrebbe piacere Un video sfida Dove scavo Speriamo che Speriamo che vi piaccia Intanto però Non sto parlando Assolutamente niente Quindi scorri Corri Corri Dunis Vai Utilizza tutta la tua Forza energia positiva Del popolo Vai popolo Trasmettetemi tutta L'energia positiva Soprattutto nei commenti Perché ognuno Quando mette Un commento Praticamente L'universo vibra Diamo possibilità A questa teoria Se è vera Oppure no E quindi Praticamente Appena vibra Mi trasmetterà L'energia positiva Vediamo se vibra Di più Dai Fatela vibrare Questa energia L'universo Fate vibrare L'universo Scrivete tante cose Mettete emoji Scrivete qualsiasi cosa Spammate nei commenti Tante robe però Cioè mi raccomando Perché l'universo Deve vibrare Forza Fate vibrare In questo universo Vediamo se riusciamo A farlo vibrare Di più Allora Mi dissocio Chiaramente E chiedo scusa Per le persone Che credono A questa teoria Giustamente Non sto assolutamente Dicendo niente Contro questa teoria Che è Assolutamente Giusto Ognuna crede In quello che vuole Chiaramente Sto sentendo Uno zombie Di autorime Ma probabilmente Era dentro La caverna Quindi niente Di che Siamo a 3 minuti e 40 Ragazzi Non per dire Però Qua a 3 minuti e 40 Potrebbe succedere Un qualcosa di particolare Potrebbe succedere Che questo zombie Prima di tutto Mi uccida Questa cosa Non va bene Però no È impossibile Che mi uccida Tanto ho l'armatura In diamante Cosa vuoi che succeda Ma se finisce Il tempo E ovviamente Prima di tutto Vi ricordo ragazzi Che io Il mio pronostico Non sono riuscito A mantenerlo Ovvero Il mio obiettivo Dei 4 diamanti Nei primi 3 minuti Non sono riuscito A conquistarlo Assolutamente no Perché chiaramente Sono passati più di 3 minuti Ora rimangono 3 minuti e 10 E quindi io sono letteralmente F Per F Intendo F L O Eh Ovviamente Quindi Aiuto Aiuto Cerchiamo di Di Non sto trovando niente Dai per favore Devo trovare Non posso terminare il video Senza niente Ragazzi mi dispera Questa cosa Scrivete più nei commenti Lo state scrivendo abbastanza Per favore Scrivete di più cose Nei commenti Scrivete nei commenti Ragazzi Facciamo vibrare Questo universo Questa teoria è l'unica cosa Che mi sta Mi sta Come dire Mi sta diciamo Dando la possibilità Di Una speranza in più Per favore Ah Avete scritto nei commenti Ragazzi Vi amo Vi love tantissimo Grazie mille Per questo regalo bellissimo Grazie Grazie ragazzi Eh Quanti diamanti Ragazzi Ma siete stati Veramente bravi A scrivere tantissimo Vedete quando scrivete Funziona Allora A quanto pare Questa teoria universale Vibrazionale Vibra Vibra di più Quando scrivete Vero Sto scherzando Non ci credo Dello stesso Ma potrebbe darsi Anche che forse funziona Diamo il beneficio del dubbio Se scrivete ancora Magari Ne trovo altri Vediamo un attimo Se ne troviamo altri Oddio mio Vediamo un attimo Se ne troviamo altri Perché Mi auguro di sì Sinceramente Mi manca Mi manca un minuto e 46 Quindi Aiuto Cioè nel senso Praticamente aiuto È un po' Pericolosa questa cosa Perché se Se non trovavate diamanti Potrebbe succedere che Magari Vuol dire che questa teoria Non funziona Però intanto Per testare questa teoria Continuate a scrivere Forza È importante scrivere E Io direi di cambiare strada Ragazzi Sapete perché Perché praticamente A volte funziona così No Da questa parte è brutto Andiamo da quest'altra parte Invece E cerchiamo altri diamanti Forza 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 Poi Scrivetemi se voi Praticamente Quando andate a scavare I diamanti Tipo in una sola direzione Andate a scavarli Tipo Solamente diciamo In una direzione Oppure se cambiate spesso direzione Io non cambio mai direzione Perché A quanto Dalla mia esperienza Diciamo Ne trovo di più Se vado solo In una direzione specifica Praticamente Però potrebbe essere Che questa cosa Sia sbagliata Chiaramente Che quindi magari Mi stia chiaramente Condizionando male Intanto Andiamo a Siamo a 46 secondi Ragazzi Aiuto Questa cosa è particolarmente Pericolosa Perché Non sappiamo bene Che cosa succederà E siamo ad otto Quanti minuti di video 8 e 54 Bene È un po' pericolosa Questa cosa Vi devo dire la verità Porca puzzarda Per non dire qualcos'altro Perché stavo per dire qualcos'altro Ma puzzarda È la parola giusta Ragazzi Scrivete L'ultima lasciata Nei commenti Per favore Dobbiamo testare Questa teoria Se è vera oppure no Facciamo vibrare questo universo Di più Siamo a 20 secondi Aiuto Il countdown The final countdown Dai Forza Scrivete Scrivete No No Per favore Siamo a 9 secondi Per favore Altri diamanti Voglio che questa teoria Sia vera Vibra Universo Vibra di più Vibra Adesso magari Lo facciamo Vibrare Tanto che esplode No Allora Non deve esplodere Dai No Vabbè Ok Ho capito Mi sa che Questa cosa Quest'ultima cosa Non funziona Vediamo se andando avanti Un pochino Da questa parte C'era qualcos'altro Non pare proprio Non pare proprio Vabbè Niente Ragazzi Io Niente Sono completamente sconvolto Dal fatto che questa teoria Non lo so Ditemi voi se questa teoria Ha funzionato Scrivetemi nei commenti Se questa teoria ha funzionato Secondo me Non dico niente Non voglio influenzare Non voglio influenzare i commenti Scrivetemi voi Se ha funzionato oppure no E niente Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi E comunque ho fatto 9 mili diamanti Sono stato bravo Grazie per aver spammato Grazie per aver guardato